Nei giorni di sabato e domenica, dal 1 luglio al 15 settembre, i treni Frecciarossa dell'Asse Adriatica Milano-Lecce si fermeranno sei volte alla stazione Giulianova, tre all'andata e tre al ritorno, anziché le quattro attuali. Ad annunciare queste importanti novità è stato l'assessore al turismo, Marco Di Carlo. Sì, la regione in realtà ha fatto un grande lavoro, ha aumentato il numero di fermate, dando quindi valenza turistica a tutta la costa Adriatica abruzzese. Giulianova in modo particolare, essendo uno snodo fondamentale per l'intera provincia, ha ottenuto quattro fermate dei Frecciarossa nei giorni feriali e addirittura sei nei giorni festivi. Una decisione che permetterà di agevolare di molto i flussi turistici. I collegamenti nei flussi turistici sono fondamentali, quindi avere dei collegamenti così snelli, così veloci, ma anche così numerosi con la nostra città, ma con l'intera nostra provincia, sicuramente facilita tutto ciò e ci proietta essere quello che giustamente dobbiamo pretendere di essere, e cioè una vera destinazione turistica. Oltre al miglioramento del flusso turistico dal punto di vista dei trasporti c'è anche un'altra iniziativa importante del Comune, ovvero uno sconto fino a un massimo del 65% sull'importo della tassa di soggiorno in caso di eventi sportivi o manifestazioni culturali. Sono tutte attività che rientrano nel piano di marketing, hanno avuto tra l'altro molto successo, la stagione 2023 è iniziata nel migliore dei modi, con tantissimi eventi che hanno portato migliaia di persone in città e noi abbiamo appunto attuato una riduzione del 65% dell'imposto di soggiorno proprio per facilitare ciò. Sarà un calendario ricco di eventi, un'ampia proposta artistica, musicale, ricco anche di tanta cultura, che vedrà Giulianova collocarsi tra le migliori ridenti cittadine turistiche dell'Adriatico.